Dunque c'era un orango nella giungla che si stava a fumare uno spinello insomma vabbè ma che è l'uomo libero insomma che non è che stava e stava fumava proprio qua e fumava saltava dall'alto e c'era una lucertola vicino si avvicina e sta lucertola gli fa che fai? Fumo che inserite dice ma che te stai a fumare? Uno spinello è buono? È buono sì queste sono le pause mi fai fan tiro? Ma che sei scemo? Un tiro di questo e te una lucertola? Ci mori no? Fennamo e dai fammi fan tiro e fammi fan tiro tira poco però è perché la fan tiro cominciato lo dicevo scusa abbia pazienza è una lucertola sì vado a bere vado a bere vado a bere vado a bere un po' d'acqua e ne faccio più sull'alzura stava a bere acqua esce fuori il coccodrillo e fa che sta a fare? Dice sto a bere perché l'orango stava a fumare uno spinello ma ha fatto fan tiro l'orango stava a fumare uno spinello non mi senti e c'è il coccodrillo va da là l'orango era distratto da sta parte il coccodrillo da qua gli fa au l'orango si rivolta e fa ma quant'acqua ti sei bevuto? grazie